Musica Seconda edizione del nostro telegiornale, bentrovati, apriamo l'edizione odierna con la Cronac, servizio antidroga della Guardia di Finanza di Catania, sequestrati 41 kg di marijuana nascosta all'interno di un congelatore che era stato appena acquistato e che era stato posizionato su uno furgoncino per il trasporto. Arrestato il corriere già noto alle forze dell'ordine. Vediamo. La droga marijuana del tipo skunk, pregiatissimo, che solitamente si coltiva in Olanda, era stata occultata all'interno di un congelatore che era stato acquistato in una catena di grandi elettrodomestici. 41 kg di marijuana che sono stati adesso sequestrati dalla Guardia di Finanza della GICO di Catania in collaborazione con i Baschi Verdi. La droga, come dicevamo, era nascosta in un congelatore appena acquistato in un negozio di elettrodomestici trasportato su un piccolo furgone guidato da Agatino Bonacorsi, 62 anni, ritenuto il corriere che è stato ovviamente arrestato. L'uomo era in possesso di una patente di guida falsificata, intestata da una persona realmente esistente e questo ha fatto scattare i controlli all'interno di un'area di servizio di Mister Bianco che hanno portato al sequestro della droga e all'arresto dell'uomo. Bonacorsi è indicato dalle fiamme gialle come appartenente al clan Pulvirenti. Nel maggio del 2004, infatti, sottolinea la Guardia di Finanza, era stato incluso tra i 19 destinatari di un'ordinanza di custode cautelare in carcere assieme ai boss Alder Colano, Antonino e Salvatore Pulvirenti, oltre che Francesco Stimoli. Il clan, per intenderci, è quello dei malpassoti. Per la Guardia di Finanza il sequestro del carico di scanche è il risultato di una serie di dispositivi di controlli effettuati dal Comando Provinciale di Catania sul territorio e, nello specifico, lungo le principali arterie e punti di accesso alla città. È stata l'esibizione da parte dell'uomo controllato di documenti apparentemente genuini a mettere i finanzieri sulla giusta pista, in quanto gli stessi documenti si sono rivelati contraffatti. Quindi la presentazione della documentazione fiscale di accompagnamento del bene trasportato, un congelatore ancora imballato. Il pozzo congelatore era stato posizionato dal corriere su di un piccolo autocarro. in quel momento è in transito presso l'area di servizio di Mister Bianco. I finanzieri hanno fermato il furgone e il conducente ha esibito la carta d'identità abilmente contraffatta e intestata a uno soggetto di mascaluccia realmente esistente. E a nulla è valsa la presentazione del documento fiscale presentata dal buon accorso ai militari operanti che hanno così deciso di spacchettare il congelatore, dove all'interno sono state trovate 20 buste sotto vuoto contenenti la pregiata coltivazione di cannabis. Informata la procura della Repubblica di Catania, Buonaccorso è stato tratto in arresto per illecita detenzione di sostanza stupefacente e condotto nel carcere di Piazza Lanza. La marijuana destinata al mercato etneo avrebbe fruttato al dettaglio non meno di un milione di euro. Dunque un milione di euro si è venduta al dettaglio. Alcuni particolari dell'operazione ci vengono raccontati nell'intervista che segue dal comandante del nucleo economico finanziario della GDF di Catania. 41 kg di marijuana trovate all'interno di un congelatore appena acquistato. Corriere è un noto esponente di una consorteria malavitosa particolarmente attiva nel Catanese. Sì, dobbiamo dire che questo sequestro presenta caratteristiche abbastanza anomale perché è difficile trovare nel nostro territorio questa tipologia di cannabis. Marijuana molto pregiata che ha un valore commerciale doppio rispetto a una marijuana ordinaria. Eravamo sulle tracce di questa tipologia di stupefacente dopo aver effettuato sequestri di intere piantagioni. A testimonianza del fatto che nel nostro territorio questa coltivazione illecita è possibile anche se tendenzialmente le importazioni si realizzano dall'Olanda. Il congelatore era un ottimo sistema di nascondimento di questo stupefacente tanto è vero che il Corriere, un noto esponente passato del clan del Mapassotu esibiva prontamente un documento di acquisto dell'elettrodomestico così sperando di eludere il controllo in atto dei finanzieri su strada. E in più a un altro stratagemma che aveva provato a mettere in atto il Corriere era l'esibizione di documenti perfettamente, apparentemente genuini ma in realtà erano contraffatti. E quindi svelati questi due metodi abbiamo aperto il congelatore e ci siamo trovati davanti una trentina di confezioni sotto vuoto di questa tipologia di marijuana. Comandante, se vogliamo c'è un duplice aspetto. Da un lato i Corrieri, i trafficanti, sono costretti ad inventarsi qualcosa di nuovo per eludere le forze dell'ordine e ciò significa che le forze dell'ordine stanno sempre in campo. Dall'altro lato però continua il traffico di sostanze stupefacenti. Certo, il traffico di sostanze stupefacenti quelle che sono le nostre evidenze anche da investigazioni in corso continua e continua con quantitativi e rotte importanti internazionali, nazionali quindi veramente è un settore, un business in continua crescita che rappresenta chiaramente la base, la fonte vitale per le nostre organizzazioni criminali mafiose. Ovviamente parliamo di droga che parebbe essere stata coltivata in zona quindi quello che lei sosteneva prima è il fatto anche che ci sia anche una modifica probabilmente anche del sistema di coltivazione qui in loco. Certamente, ecco, questo sequestro di questo carico rafforza questa nostra convinzione dell'esistenza di intere e di significative piantagioni nel nostro territorio che sono anche difficilmente individuabili se non si dispone di mezzi, non solo aerei in grado di riuscire a rintracciare coltivazioni in territori difficilmente raggiungibili con i mezzi ordinari questo è la dimostrazione che le nostre organizzazioni criminali prediligono fonti di approvvigionamento variegate in modo da fronteggiare gli innumerevoli sequestri che soprattutto nell'ultimo periodo la Guardia di Finanza riesce a mettere a segno seguendo tutte le rotte possibili. Si seguono tutte le rotte possibili ma ovviamente oggi ci sono dei metodi tecnologici che danno anche una mano alle forze dell'ordine. Certo, ci danno una mano però va sottolineato come non mai in questa tipologia di traffici, di reati quanto sia importante il lavoro che i militari, i finanzieri riescono a fare su strada perché così come la Guardia di Finanza e le altre forze di polizia dispongono di sofisticate tecnologie il crimine dall'altra parte viaggia quantomeno allo stesso nostro livello quindi bisogna per assestare dei colpi soprattutto ai trafficanti di droga è necessario e fondamentale acquisire il controllo del territorio e quindi la presenza su strada, la previsione di vari dispositivi di contrasto anche sulle principali strade rappresenta un ritorno al passato ma indispensabile per contrastare veramente queste organizzazioni. Il vice sindaco di Caltagirone Sergio Gruttadauri è stato rinviato a giudizio per tentate induzione in debita a dare o promettere utilità nei confronti di un ex dirigente dell'ufficio tecnico del comune per l'esclusione dall'albo dei fornitori di un'impresa e di le seconde denuncianti la richiesta di chiarimento sollecitata da Gruttadauri sarebbe stata intimidatoria mentre il vice sindaco sostiene di aver agito per verificare le lamente di uno cittadino Gruttadauri conferma piena fiducia nella magistratura confidando nell'assoluta infontatezza dei fatti ascritti. Ad Acireale picchia la convivente in presenza dei figli minori arrestato mentre tentava di fuggire per le scale. Vediamo. Ancora violenza sulle donne, due uomini arrestati tra Catania ed Acireale dai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale hanno arrestato in fragranza un pregiudicato di 43 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglie e lesioni personali aggravate, reati commessi nei confronti della convivente di 31 anni a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa della locale compagnia attraverso la quale una donna riferiva di essere stata picchiata dal convivente l'equipaggio di una gazzella si è recato nell'abitazione in via Scaccianoce. Giunti sul posto i carabinieri hanno notato la donna visibilmente provata e sanguinante riversa a terra, i due figli minorenni della coppia in lacrime, l'uomo continuava ad inveire come ti sei permessa di chiamare i carabinieri. Il violento per evitare le manette ha tentato di fuggire per le scale del palazzo mezzo nudo, gesto reso inutile dal pronto intervento dei militari che lo hanno bloccato. La donna è stata invece soccorsa e trasportata all'ospedale di Acireale. I medici del pronto soccorso hanno diagnosticato lesioni varie, frattura delle ossa nasali, e trauma nella parte dorsale. Dalle prime testimonianze acquisite sembra che l'individuo negli ultimi anni sottoponesse la convivente a continue avvessazioni, sempre in presenza dei figli minori. L'uomo si trova agli arresti domiciliari in casa dei genitori. A Catania invece è finito in manette un nigeriano di 31 anni, avrebbe picchiato e ferito con dei cocci di bottiglia la compagna, una connazionale di 26. Anche gli responsabili di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. È accaduto all'interno della loro abitazione dove l'uomo, per motivi futili, si è scagliato contro la giovane. La vittima è riuscita a chiedere aiuto al 112. I militari giunti sul posto hanno trovato l'uomo in azione. Vigili del fuoco a Catania chiude la mensa del comando centrale dopo quella del distaccamento in aeroporto. Anche la struttura di via Cesare Beccaria, le condizioni igieniche avrebbero richiesto degli interventi. Dai tubi a sciacqua nera ha affermato Carmelo Barbagallo, rappresentante della USB, che ha reso nota la notizia. In stato di agitazione i lavoratori della ditta che effettua il servizio di pulizia delle basi della Marina Militare in Sicilia. A Catania oggi un'assemblea, la prossima gara d'appalto, infatti, prevederà una drastica decurtazione delle ore di lavoro. Vilcams CGL Sicilia ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dell'appalto pulizia della Marina Militare Mari Sicilia. A Catania, questa mattina si è tenuta un'assemblea sindacale, 12 le persone a rischio occupazione. Le altre basi sono quelle di Augusta, dove operano 36 lavoratori e Messina con 14, poi tre su Palermo, Trapani e Agrigento. Lo stato di agitazione nasce dalla decurtazione della base d'aste del Monte Oreano, che avrà effetti devastanti per i lavoratori impiegati nell'appalto. Infatti, l'impresa risultante aggiudicataria dell'attuale procedura di gara per il lotto 4 ha già dichiarato esuberi di personale di rilevante entità, ovvero, nella migliore delle ipotesi, un taglio complessivo delle ore contrattuali dei singoli lavoratori stimato in circa il 40%. Questa non è una cosa nuova, ci tengo a sottolinearlo perché generalmente negli appalti di servizi e soprattutto quello di pulizie siamo sempre di fronte a un cambio di appalto e quindi delle gare che vengono costruite non soltanto a ribasso rispetto alle offerte che fanno le aziende che partecipano alla gara, ma anche la costruzione a monte del bando di gara già prevede una decurtazione del Monte Ore. Una decurtazione del Monte Ore porta a fare due scelte fondamentali essenzialmente, che è quella o che l'azienda ti dichiara l'esubero e quindi non è neanche scontato che i lavoratori possono essere esattamente gli stessi, o quello di prevedere una decurtazione del loro contratto di lavoro che già è ridotto ai minimi termini, ad esempio nello specifico noi stiamo parlando dell'appalto della Marina della Pulizia, della Marina Militare che in Sicilia è su Augusta, su Messina e su Catania, hanno su Catania i lavoratori che sono 12, hanno contratti di lavoro di 2 ore al giorno, 10 ore alla settimana, già c'è una deroga, quello che è il contratto collettivo nazionale di lavoro che l'ideroga e che prevederebbe 14 ore minimo di orario di lavoro individuale. Questi lavoratori, come dicevo, sono 12, è un appalto fatto di numeri, che i numeri narrano e raccontano una storia drammatica dei lavoratori, di questi lavoratori, ma come dicevo, dei lavoratori in generale. La Marina Militare della sede di Catania ha 52 edifici che non si distribuisce su ettari, che non ricordo neanche l'esatto numero degli ettari, 52 edifici che sono raggiungibili fra loro con una distanza di 2 km, ci sono 600 rubinetti che corrispondono a 600 bagni, ci sono 600 lavoratori della Marina Militare che usufruiscono di servizi igienici, oltre a 100 corsisti. Immaginare 12 lavoratori che possono rendere un servizio di pulizia che sia a norma anche con quello che è la sicurezza per quanto riguarda gli ambienti che devono essere igienici, con un livello di pulizia dignitoso, mi pare che sia assolutamente impossibile. Consip, la gara, anche su una questione di richieste che provengono dagli uffici, ha messo a bando una gara che decurta in maniera drastica il Monte Ore. Noi stiamo parlando di una gara di circa 33.800 ore annue, che riguarda tutti, il lotto 4 che è quello della Sicilia, a fronte di solo 36.000 che venivano utilizzati nell'appalto precedente per la sola sede via Augusta. Noi stiamo parlando quindi di una oggettiva impossibilità di poter fare questo cambio appalto, perché fare questo cambio appalto già l'azienda che se l'ha giudicata ha messo nero su bianco l'obbietà che è quella di procedere a degli esuberi se non ad una decurtazione dell'orario di lavoro. Il problema l'abbiamo noi lavoratori, il problema ce l'ha il sindacato, ma credo che il problema di più ce l'abbia la Marina Militare, perché dare un servizio di igiene a chi è dentro quella sede diventerà pressoché impossibile. Che fine hanno fatto gli 11 milioni di euro per la zona industriale di Catania da spendere entro il 2019? Lo chiedono gli esponenti di CGL Cisle Will di Catania a fronte degli ultimi allagamenti avvenuti a causa del maltempo nella zona industriale. Il quesito punta soprattutto a conoscere lo stato dell'arte dei finanziamenti, reale cronoprogramma dei lavori e non ultimo in ordine di importanza la possibilità che agli 11 milioni previsti già negli anni scorsi mentre era in carica la precedente giunta, quando vennero effettuati sopralluoghi con i sindacati e associazioni imprenditoriali si possono aggiungere altri fondi. Chiediamo, scrivono ancora CGL Cisle Will all'amministrazione comunale, una convocazione per mettere i cittadini in condizione di conoscere ciò che è stato fatto fino ad ora. Rimaniamo a Catania, parliamo della localizzazione dei bus a MT in fase di avvio al servizio che consente di sapere dove si trova l'autobus in tempo reale attraverso Google Maps. L'MT sta attestando a Catania il nuovo servizio di localizzazione in tempo reale degli autobus dell'azienda metropolitana Trasporti su Google Maps. Allo Stato le tabelle orarie che vengono mostrate su Google Maps, su ogni telefonino dunque, evidenziano gli orari di programmazione delle corse a cui a breve però seguirà la posizione reale dei bus. Alcuni di questi in realtà stanno già sperimentando il servizio, innovativo certamente per la città di Catania che la equipara alle grandi città metropolitane d'Italia e del resto del mondo che già da tempo utilizzano questo tipo di ausilio. L'abbiamo detto fin dall'inizio, è importante che l'utente sappia dove si trova l'autobus e tra quanto tempo in effetti arriva alla fermata. Proprio per questo abbiamo avviato una sperimentazione con Google Maps, con Movit e con altre aziende per dotarci di tutta una serie di strumenti tecnologici. Già Google e Movit hanno a disposizione tutto il programmato quindi già da oggi si possono creare i percorsi anche col mezzo pubblico, cosa che prima purtroppo a Catania non era possibile e da qui a brevissimo daremo tutti i dati al pubblico del tempo reale quindi tutti i cittadini potranno tramite queste due applicazioni scoprire dove si trova l'autobus, ci sarà la nuova applicazione dell'AMT che potrà anche dare questi dati e all'interno delle paline elettroniche che già si possono vedere. Quindi stiamo potenziando questi servizi di infomobilità perché è giusto che come in tutte le migliori città italiane e anche a Catania ci sia questo tipo di informazione al cittadino. E poi prosegue il percorso di rinnovo del parco auto. Assolutamente, ne presenteremo 27 proprio questo sabato, ci sono anche vetture più corte delle normali che quindi possono più agevolmente raggiungere le vie del centro cittadino e le vie un po' più impervie anche delle zone dei vari quartieri della città e quindi con gli acquisti dell'anno prossimo che saranno gli ultimi in ordine di arrivo completeremo totalmente il rinnovo del parco mezzi. Catania sarà la città con il parco mezzi più nuovo d'Italia. Che poi cercare di centrare l'obiettivo che lei si è posto sin dall'inizio, cioè far utilizzare sempre più il mezzo pubblico, possibilmente integrato con il servizio metropolitano, per far entrare meno macchine dentro Catania. Sì, stiamo facendo passi avanti su questo, la metropolitana fa un bel servizio, l'AMT ha migliorato di molto il servizio in questo periodo, resta ovviamente ancora tanto da fare e quindi veramente l'integrazione che già esiste perché ci sono i biglietti integrati, gli abbonamenti integrati deve essere ancora di più potenziata, magari coinvolgendo anche Trenitalia con la quale alla presenza degli organi regionali dell'assessore Falcone abbiamo concordato delle iniziative, magari coinvolgendo anche i bus exurbani, soprattutto nella prima fascia attorno a Catania. Ci sono tante cose da fare, sono alla portata e quindi vi auspico che da qui a qualche settimana ci siano innovazioni concrete a favore dei cittadini catanesi e dell'area metropolitana. Vi sono stati rimossi dalla Ferrovia Circumatnea metropolitana di Catania i pannelli pubblicitari di un'agenzia immobiliare in cui si indicavano i nonnini tra i dieci vicini di casa che non vorresti mai avere. Nonostante le segreterie di Will e Will pensionati di Catania a segnalare il caso, definendolo di cattivo gusto, i rappresentanti della società hanno inviato al sindacato le foto in cui si mostrano le carrozze della metro senza quello spot sugli anziani che tengono la tv a volume stereo per guardare reality. L'agenzia immobiliare ha anche trasmesso alla Will una nota dove spiega di essere stata fraintesa che non voleva offendere alcuno, men che meno i nonnetti. Andiamo adesso ad Acireale, differenziata in aumento negli ultimi tre anni, superata il 65%, scongiurate le sanzioni e soprattutto si potrebbero abbassare, almeno sperano questo gli accesi, i costi per i cittadini. Al primo piano del centro polifunzionale di Via degli Ulivi e Acireale negli uffici dell'assessorato ai servizi ecologici c'è euforia tra i collaboratori dell'assessore per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata che hanno superato la soglia psicologica del 65% che è anche percentuale necessaria di evitare le salate e sanzioni previste per i comuni inadempienti. La scheda di comparazione dei dati diffusa stamani dall'ufficio per il monitoraggio della raccolta differenziata mette in luce la crescita esponenziale del servizio in città. I dati si riferiscono al mese di settembre, l'ultimo triennio, dal 38,5 del 2017 al 65,8 di quest'anno. Numeri che lasciano ben sperare per migliorare le performance di un servizio partito con qualche tribolazione ma che lentemente sta entrando a regime e collocando la città di Acireale tra i comuni virtuosi dell'isola. Comunque fuori dagli standard al di sotto dei quali gli enti non in regola debbano corrispondere a sanzioni salatissime. Acireale paga le conseguenze del 2016 quando la differenziata non raggiungeva il 30% e gli enti sovracomunali, regione e provincia su parametri imposti dalla comunità europea che sulla questione ha messo dei paletti molto rigidi salassavano lente. Nonostante, occorre ricordare, come in Sicilia con la vicenda delle discariche mai risolta, la situazione rimane complicata e per gli amministratori pubblici non è facile rispettare le percentuali richieste. L'assessore servizi ecologici di Acireale, Daniele La Rosa, non esclude in futuro di abbassare la Tari. Sono risultati buoni, per un comune che ha oltre 50 mila abitanti sono risultati molto buoni. Chiaramente un comune che ha un numero di abitanti inferiori, per raggiungere il percentuale più alto è un po' più semplice. Io a tal fine volevo dire che c'è stato un picco significativo del 68,34% che è stato raggiunto nel mese di maggio 2019. Quindi è un trend oramai che si è stabilizzato oltre il 60%, la media del 2019 è quasi 63%. Questo risultato va appartando un ringraziamento ai cittadini, agli commercianti, alle attività produttive che chiaramente abbiamo raggiunto questi valori anche perché anche loro si sono impegnati giorno per giorno al fine di ottenere questi valori. Ci sono ulteriori margini di miglioramento chiaramente, dobbiamo ridurre la quantità di secco, questo come si riduce? Sensibilizzando ulteriormente la popolazione e i cittadini. Come possiamo fare per far sensibilizzare i cittadini? Oltre ad implementare la comunicazione con il sito Agile a differenza che adesso è più operativo, consente adesso anche di fare delle segnalazioni, prenotare gli ingombranti, ci sono tutta una serie di informazioni fra cui anche il riciclo abolario, se abbiamo una difficoltà su un rifiuto dove conferirlo all'interno del sito c'è la differenza, troverete le indicazioni come deve essere conferito. A fronte di questi dati si può ipotizzare una riduzione delle tariffe perché poi il cittadino dirigente che differenzia bene si aspetta che alla fine possa avere dei benefitti? Sì, penso di sì che ora stiamo lavorando sul nuovo piano economico-finanziario e quindi con l'ultima ordinanza sulla separazione della plastica dei rifiuti, gli introiti sembrano come prime proiezioni abbastanza interessanti, stiamo risparmiando soprattutto la selezione dei metalli dalla plastica, quindi ci sono le condizioni per poter avere anche una riduzione della tariffe dell'anno prossimo. Rimaniamo ad Acireale per parlare di un'altra vexata questio, l'archivio storico, il sindaco conta sui fondi europei per adeguare la nuova sede. Tra qualche mese l'archivio storico di Acireale perderà la responsabile Arminia Ungaro che andrà in pensione, al suo posto arriverà a scavalco l'attuale bibliotecaria della Zelantea e si riapre la nostra questione della sede dell'archivio storico da anni ospitata in questa vecchia scuola elementare di Santa Maria Malati, in un sito considerato poco sicuro e certamente non idoneo al contenuto degli archivi documentari che rappresentano la storia stessa della città. Il testo più antico risale al Cinquecento, tra i documenti più importanti, il diploma di Carlo V e i tre libri dei privilegi, scritti in cui i monarchi del tempo concedevano benefit rari ai cittadini e privilegi tanti ai nobili. Documenti eccezionali, dicono gli esperti che hanno avuto modo di leggerli. Recentemente la questione della sede dell'archivio storico venne sollevata dal paleografo Alessio Mondello, lo studioso intervistato dalla nostra emittente, sollevò la necessità di reperire locali adeguati alla custodia di documenti assai delicati, a cominciare da impianti di reazione a temperatura controllata, finito in un nulla di fatto anche il progetto di digitalizzare almeno i documenti più vecchi, annunciato in pompa magna e poi dimenticato a quanto pare per mancanza di fondi. La sede è gestita da quattro persone, la responsabile, due collaboratrici e un dipendente. Ogni anno decine di studenti e studiosi chiedono di consultare i faldoni per ragioni di studio o per la cura di pubblicazioni storiche. Io il primo maggio andrò in pensione. Il mio desiderio sarebbe quello che questa struttura così importante che contiene tanta documentazione veramente molto importante con la storia di Eceriale venga almeno traslocata in una sede più idonea, magari al centro ad Eceriale perché noi qui siamo in una frazione di Eceriale a Santa Maria ammalati. Me lo auguro con tutto il cuore che venga spostato all'archivio storico. 6.500 fascicoli, peraltro c'è anche il diploma di Carlo Quinto. Sì, ci sono, conteniamo almeno 6.500 fascicoli. Poi abbiamo i tre libri dei privilegi che sono i libri più importanti che abbiamo e il diploma di Carlo Quinto, sono le cose più importanti. Insieme a tante altre cose, ma a tante altre documentazioni che ha bisogno di essere collocate in altro posto perché è una documentazione di pregio, abbiamo tante cose. L'amministrazione ha allo studio la riqualificazione di due immobili idonei a contenere in sicurezza i 6.500 preziosi documenti, i locali dell'ex ginnasio di via Marchese di San Giuliano, adiacente alla biblioteca Zialantea o in alternativa il convento del Carmine. È una problematica che si porta avanti da tantissimi anni. Noi abbiamo presentato un progetto sul Gulli e Pennisi, vediamo se ci verrà finanziato, però se non abbiamo un altro progetto lo stiamo portando avanti anche sui cappuccini attraverso delle misure previste dal GAL. Queste sono delle prime ipotesi su cui agire. L'alternativa è trovare un finanziamento significativo che ci permetta di ristrutturare degli immobili che il comune ha. Perché il Gulli e Pennisi è una particolare situazione perché non è tutto di proprietà del comune, una parte della regione, quindi noi l'investimento lo stiamo facendo su quello del comune, non possiamo fare investimento sull'altra parte. L'alternativa potrebbe essere il convento del Carmine che invece è tutto di proprietà comunale, però in uno stato di assoluto abbandono. Una soluzione bisognerà trovarla comunque perché l'archivio storico rappresenta un po' la storicità di una comunità e peraltro ha anche dei testi molto importanti. L'archivio storico è sicuramente una risorsa importante. Dobbiamo trovare i bandi specifici che prevedono di ristrutturazione. Ce n'è stato uno un paio di anni fa sulla 966 che però è di 600 mila euro. Con 600 mila euro certo non si sistema il convento dei carmeletani che è stato scoperchiato ed è in uno stato di abbandono, ma anche il Gulli e Pennisi si parla di cifre nell'ordine dei milioni di euro. Andiamo adesso a riposto. Presto partiranno i lavori per l'area verde fitness a lungomare di Torre Archirafi. L'opera di riqualificazione è possibile effettuare con delle risorse, cioè quelle del bilancio partecipato. Sono stati appaltati gli interventi volti alla riqualificazione dell'area verde sul lungomare e pantano a Torre Archirafi, il borgo marinaro della città di riposto, proprio di rimpetto ai locali della scuola elementare Alessandro Manzoni. Per la rifunzionalizzazione del sito oggetto di uno dei progetti del bilancio partecipato del comune è di 4.366 euro. La somma è stata integrata con un'apposita aperizia rispetto all'originario finanziamento di 3.500 euro assegnato alla parrocchia di Torre Archirafi, che aveva proposto l'idea. I lavori saranno eseguiti da una cooperativa accesa e consistono nella manutenzione e messa in sicurezza dell'esistente staccionata, comprensivi di tinteggiatura con vernice protettiva antisalsedine, inoltre riduzione della chioma degli alberi, regolarizzazione della superficie del prato e collocazione di vari giochi per bambini. Così il sindaco del comune Ionico. Un progetto che sospinta anche su richiesta la parrocchia di Torre Archirafi nel bilancio partecipato che ogni anno noi facciamo in coincidione con il bilancio, quindi i fondi che rimangono e si possono gestire sul territorio, su indirizzo anche l'indicazione di quella dei privati e il recupero di quello spazio a verde, dove una volta c'erano degli attrezzi ludici e zinici che poi sono scomparsi nel tempo. Lo stiamo ripristinando, stiamo facendo quello che è il prato, stiamo facendo la posizione di nuove fiori, ma soprattutto di quelle che sono giochi per bambini e metteremo anche qualche attrezzatore un po' più in là per ripristinare un po' di fitness. Quindi un recupero a mano, un ritorno e un restituire ai miei concittadini, uno spazio a verde, cosa che è sempre un punto di diamante di questa amministrazione nella ricerca di questi spazi e nel ritorno alla mia collettività come luogo di applicazione. Torre Archirafi negli ultimi due anni ha subito una vera e propria trasformazione, lo possiamo dire? Sì, ma tutto, tutto il territorio del riposto ne ha avuto beneficio, in particolare si vede sotto l'Archirafi perché? Perché l'estate abbiamo aumentato quella che era la ricettività e abbiamo una movita che si è spostata, è diventata al centro del territorio Ionico e Tenneo per cui si vede questa valorizzazione del territorio. Però credo che un po' tutti perché non facciamo caso che Caruba sia raddoppiata, la zona di Arche, ci parliamo anche di strutture sogge recettive, ma soprattutto ergonomiche e economiche, gastronomiche in tutti i sensi per tutti i territori. Il riposto sta crescendo e cresce nel senso giusto e nella ricettività turistica. Per uno progetto che va avanti, uno progetto che invece si ferma, perlomeno si spera solo temporaneamente, parliamo di Porta Garibaldi, torniamo dunque a Catania, il Fortino non entra per un soffio nella rosa dei progetti finanziati dal Fondo Ambiente Italiano per i luoghi del cuore. Il progetto recupero e valorizzazione dell'arco trionfale settecentesco catanese è stato assegnato il diciassettesimo posto, non utile per quattro posizioni, in quanto sarebbero stati finanziati i progetti sino al tredicesimo posto, a mare in bocca per l'associazione Acquedotto Arte Cultura Aria Urbane, che aveva candidato il bene al luogo del cuore, sostenendo peraltro il sostegno anche del comune di Catania. Acquedotto però non si ferma, l'appello infatti adesso viene rivolto alle forze imprenditoriali della città per la sponsorizzazione del progetto e i cittadini per la partecipazione ad una campagna di crowdfunding. Bene, noi adesso ci fermiamo, chiudiamo questa parte del telegiornale, cediamo la linea alla regia, Fulvio Ferrauto, ci rivedremo subito dopo la pubblicità. Bene, rieccoci in studio dopo la pubblicità, non ci sono aggiornamenti dalla redazione, dunque ci fermiamo, termina qui la seconda edizione di Oratg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di Ray TV, che avete seguito sul sito internet www.raytv.it o sui canali social di Ray, Facebook e Youtube. Prossimo appuntamento con Oratg domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti. Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 14 novembre permane l'instabilità in Sicilia, rischio precipitazioni sul versante sudorientale, mari mosso il Mediterraneo, le temperature ovunque in calo, massime da 20 a 12 gradi, a Catania 18 gradi la massima, 13 la minima. Grazie per aver guardato il shall원io! S Gesù ítamo! Grazie a tutti io! Grazie a tutti.